L'emergenza sanitaria torna ad essere emergenza alimentare. Tante famiglie colpite dalla crisi economica provocata dalla pandemia sono sempre più costrette a ricorrere agli aiuti alimentari offerti dall'associazione e dalle istituzioni. Il comune di Ponte Bungenese, dopo la prima fase dell'emergenza della scorsa primavera, ha pertanto riattivato la procedura per fornire generi alimentari e prodotti di prima necessità ai cittadini. Grazie all'iniziativa Mi Prendo cura Donando. Al momento la distribuzione dei prodotti avviene il sabato mattina. La base logistica dove i volontari preparano i pacchi alimentari si trova all'interno dei locali dello stadio Sandro Pertini. Quando arriveremo alla consegna del Natale avremo e faremo veramente dei pacchi bellissimi per far sentire queste persone veramente meno sole. Come funziona la distribuzione. Integreremo i pacchi a partire dalla prossima settimana con le risorse del governo e quindi noi tutti sabato mattina faremo queste consegne a quelli della fascia A e poi successivamente una volta ogni due settimane, oggi è il turno che toccano a tutti, anche a quelli della fascia B. Faremo un pacco di Natale anche con alimenti freschi che ci sia prodotti del territorio di Ponte Bungenese. Quante persone hanno fatto domanda, hanno aderito a questo bando? Quante persone, più che persone, nuclei familiari. Noi ad oggi abbiamo una settantina, settantaquattro mi sembra di richieste che sono state già esaminate e inserite nella lista a ieri mattina. E quanti andrà avanti questa iniziativa? Questa campagna andrà avanti finché avremo le risorse e la disponibilità dei cittadini di Ponte Bungenese, finché avremo le risorse a disposizione, ma comunque io credo che ampiamente andremo fino a tutto gennaio se non anche il mese di febbraio, dati anche le risorse che ci sono state girate al governo che sono oltre 60 mila euro e quindi l'importo è veramente grande e in questo momento questa platea per fortuna è abbastanza ristretta in questo momento.